Papa Francesco, vogliamo prima di tutto ringraziarla profondamente per la canonizzazione di Charles de Foucault. Per noi, i 19 gruppi della famiglia spirituale sonale e la nostra vita di gruppo alla luce del carisma di Frère Charles. Vi ringrazio perché portate avanti questa testimonianza che fa tanto bene, specialmente in un tempo in cui si rischia di chiudersi nei particolarismi, di accrescere le distanze, di perdere di vista il fratello. Lo vediamo purtroppo nella cronaca di ogni giorno. Amén. 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 Amén.